Ehi, ragazzi! Benvenuti su Gossip e Newsita, la vostra fonte principale per gli scoop più bollenti del momento. Oggi siamo qui per condividere dettagli esclusivi sul divorzio che ha mandato tutti in fibrillazione, quello tra Ilari Blasi e Francesco Totti. La nostra affezionata conduttrice di 42 anni si è aperta nel nuovo documentario che sbarcherà su Netflix il 24 novembre, regalandoci un concentrato di emozioni intense. Ilari si commuove mentre condivide la sua verità, confessando, non avrei mai immaginato che Francesco avrebbe fatto qualcosa del genere. È una testimonianza che farà vibrare i vostri cuori, e vogliamo sapere cosa ne pensate. Lasciateci la vostra opinione nei commenti qui sotto. Nel trailer esclusivo che abbiamo ottenuto, Ilari sottolinea di aver sposato Totti per amore, non per soldi, e lo ha dimostrato sempre pubblicamente. Riviviamo insieme la loro lunga storia d'amore, partendo dall'incontro a soli 19 anni fino ai tre figli che hanno cresciuto insieme. E non è finita qui. La mamma di Ilari, Daniela, ci rivela il carattere forte della figlia, e abbiamo anche le sue sorelle e amiche più strette che aggiungono un tocco di piccantezza alla situazione. Insomma, il mix perfetto di emozioni è garantito. Ilari rivela un momento cruciale a fine gennaio, quando ha iniziato a notare un cambiamento in Totti. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito, si chiede. Già all'epoca, i media parlavano della relazione tra Totti e Noemi Bocchi, la sua attuale compagna. Silvia, la sorella maggiore, condivide una riflessione interessante, dopo vent'anni di frequentazione, credo che tu possa fidarti di quello che ti dice. E il padre di Ilari aggiunge il suo punto di vista. Adesso, ragazzi, vogliamo ascoltarvi. Commentate qui sotto con le vostre opinioni su questa storia. Iscrivetevi al nostro canale Gossip e News Ita, lasciate un like se il video vi è piaciuto e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna news succulenta. Ringraziamo tutti voi, i nostri fantastici spettatori. Ci vediamo al prossimo Gossip su Gossip e News Ita. Grazie e ciao ragazzi!